Martedì 28 marzo ancora ben ritrovati con il nostro quotidiano appuntamento con la rassegna stampa. Partiamo con la lettura dei giornali, lo facciamo come sempre con i titoli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. In primo piano la politica internazionale, sappiamo le proteste in Israele contro la riforma della giustizia che appunto è stata congelata dal governo in seguito alle proteste che comunque non si fermano. Sottolinea il Corriere della Sera. E poi Fania Oz, la figlia dello scrittore Amos, Bibi, non incanta più. Si parla quindi di Netanyahu. Quadruplicati gli sbarchi, la questione migranti ancora in primo piano sul Corriere della Sera. È record rispetto all'inizio del 2022, quote per lavoratori stranieri esaurite in un'ora. E poi Salvini dice che è un attacco mentre i centri di accoglienza sono al collasso. Gentiloni vola in Tunisia. Andiamo adesso negli Stati Uniti con una notizia di cronaca. L'ennesima sparatoria ci troviamo a Nashville dove una donna armata di fucili e pistola ha fatto irruzione in una scuola dopo aver ucciso sei persone tra cui almeno tre studenti. È stata infine uccisa dalla polizia, ecco infatti ex studentessa spara a scuola sei le vittime di queste tre bambini. Andiamo adesso sulla Repubblica. Quindi ancora le notizie nazionali. Ecco la piazza ferma Netanyahu. Il titolo scelto in apertura dalla Repubblica con una fotonotizia che si riferisce proprio alle manifestazioni in Israele. Migliaia di manifestazioni bloccano la Ayalon di Tel Aviv per protesta contro il governo. In migliaia cerchiano l'Aknes e Tancora. Il premier annuncia il rinvio della riforma giudiziaria. Il partito di ultradestra accetta ma vuole una guardia nazionale dai sindacati e stop allo sciopero generale. E poi andiamo in Russia dove spunta un audio degli oligarchi contro Putin a seppellito il paese. Avrebbero detto, sarebbero insomma state intercettate le loro voci. Parliamo di economia. In prima pagina della Repubblica, PNRR, la commissione bacchetta Roma ed è a rischio la rata da 19 miliardi. Resporto e TG1 alla destra all'assalto della TV pubblica, quindi parliamo di politica. E infine si parla ancora di economia. Il caso, benvenuti a Milano, la regina del caro affitti. E poi è scomparso Gianni Minà all'età di 84 anni, il giornalista curioso di tutto. Il titolo della Repubblica dedicato al giornalista scomparso questa notte. Andiamo adesso sulla gazzetta del mezzogiorno. Anche qui le migrazioni in primo piano, i migranti, uno sbarco dopo l'altro. Il titolo del quotidiano. A Roccella Ionica sono arrivati 650 migranti. Nuovo scontro sulle ONG. In overbooking, il click day per l'ingresso di lavoratori stranieri in Italia. E poi la cronaca. Sulla prima pagina della gazzetta, ma ci spostiamo in Basilicata, medico assassinato e giallo in Lucania. Mentre il procuratore Curcio lancia l'appello e dice chissà parli. Ancora un'inchiesta, comuni senza sportello bancario, tutti i numeri dell'emergenza di Laga in Puglia, il fenomeno della desertificazione. Ancora le prime pagine della gazzetta del mezzogiorno, questa volta ci spostiamo nelle province pugliesi e lucane. Partiamo dal capoluogo pugliese, quindi la provincia di Bari. Col fondo il mutuo è una garanzia quasi in 3.000 sotto le sottoscrizioni nel 2022. E boom di richieste più 106% in provincia rispetto al 2021. A Bari terrazza panoramica sul mare, quindi si parla di infrastrutture, è la seconda vita di San Cataldo. Ci sarà un waterfront davanti al faro e prende forma il progetto green approvato in consiglio comunale. La gazzetta della provincia Bat adesso, Andrea, stazione sud, è conto alla rovescia. Anche qui si parla di infrastrutture in prima pagina, ecco vedete una fotonotizia dedicata proprio ai trasporti, ma si parla anche di energia. Energia elettrica sta pubblica per piazzare il pacchetto clienti. A Trani dal prossimo anno il servizio sarà affidato al mercato libero. E poi si torna a parlare di Xylella, ma questa volta in un'accezione diversa. A Barletta è il tempo dei giganti e il dramma appunto della Xylella domani in scena all'opera a Barletta. Andiamo adesso in Capitanata, lo facciamo ancora con la gazzetta del Mezzogiorno. Vediamo il titolo in apertura della gazzetta dedicata alla provincia di Foggia. Cancellare i ghetti, ma bonifica in salita. I proprietari dei terreni bloccano i lavori. Siamo a Stornara dove sono intervenute le forze dell'ordine, mentre il sindaco ribatte dicendo si va avanti. La cronaca, poi in provincia di Foggia, un chilo di cocaina nell'auto. Per questo è stato fermato un 24enne incensurato. Si tratta del più grande quantitativo di droga pesante, sequestrato fino a questo momento nel 2023. La gazzetta del Salento. Adesso ci spostiamo nella Puglia del Sud, a Lecce e a Brindisi. Partiamo dalla città di Lecce, dal 19 giugno. Telecamere attive a tutti i varchi ZTL con multe pronte. Installati impianti di videosorveglianza ad altri dieci accessi del centro storico. Vediamo la fotografia dedicata a questa notizia relativa alla città di Lecce. Il futuro energetico brindisino. Quindi ci spostiamo in provincia di Brindisi, oggi al vaglio del Parlamento. L'Ippolis da Confindustria dice possiamo diventare hub dell'energia e della logistica. La cronaca. Droga verso la provincia di Taranto, nei guai tre fratelli francavillesi, blitz dei carabinieri nel cimitero di Sava, dove sono anche state trovate delle armi. E ci spostiamo proprio a Taranto, ancora con la gazzetta del Mezzogiorno, dove in primo piano ritroviamo la notizia di cronaca di cui abbiamo appena accennato. Siamo a Sava, traffico di droga e armi nel cimitero, il covo della Mala. Operazione coordinata dalla DDA di Lecce, 19 le misure di arresto eseguite dai carabinieri. In un loculo vuoto erano state conservate fucili e munizioni, quindi anche traffico di armi. Ancora a Taranto. Siamo al porto, dove rischia di saltare l'arrivo dell'operatore turco Medcon Lines. Se lo scalo di Taranto non compare nell'itinerario e per questo l'autorità chiede chiarimenti. Andiamo adesso in Basilicata, ancora con la gazzetta del Mezzogiorno, dove ritroviamo la sanità in apertura. È profondo rosso nel 2022. In Basilicata c'è un buco da 20 milioni. Per evitare il commissariamento, il governo regionale dovrà garantire i fondi al Ministero entro il prossimo 31 marzo. Ma torniamo sulla cronaca e torniamo sul caso del medico ucciso a Pesco Pagano. È giallo, era il responsabile sanitario del Picerno Calcio. È il procuratore Curcio, lancia l'appello. Chissà qualcosa parli. Torniamo in Puglia, lo facciamo con le pagine del Corriere del Mezzogiorno. La mala sanità in primo piano, morta dopo una serie di errori, è quanto emerge dalla relazione degli ispettori sul decesso di una donna. All'ospedale Perrino di Brindisi, il primario sottoposto al processo disciplinare, mentre l'insegnante, appunto, deceduta, partorì due gemelli prima di morire. La fotografia, sfilate tra i trulli dal 7 all'11 gennaio, vediamo Sono Dolce e Gabbana, che porteranno appunto in Valle d'Itria la loro collezione la prossima estate, mentre ieri a Bari la visita del ministro alla giustizia nordio che ha partecipato all'intitolazione di un'aula di giustizia all'avvocato barese e ostacchio Sisto scomparso dieci anni fa. Ancora, la politica e la mala sanità, deficit nelle asle, loro a dettagli, timore per l'incontro con il governo. Oggi ci sarà un vertice. E poi ancora la notizia di cui dicevamo, incompetenze e un mix di errori, ecco le cause della morte di Viviana. La visita del ministro nordio, un'aula intitolata al padre di Sisto, Francesco Paolo, l'attuale viceministro alla giustizia, mentre la forgia dice, ignorati gli altri giuristi. Scoppia quindi la polemica in seguito alla visita a Bari del ministro alla giustizia. Andiamo adesso sulla Repubblica, edizione barese, dove in primo piano ritroviamo un appello del rettore dell'Università di Bari, Stefano Brunzini, che dice vogliamo spazi per studenti. E l'appello al sindaco De Caro, i nostri allievi anche fuori sede, devono essere visti come cittadini. La seconda Gigafactory è, nel sul tavolo, l'ipotesi pugliese. Dopo l'impianto di Catania, il primo d'Europa per la realizzazione di pannelli fotovoltaici. Il colosso energetico studia un'altra opzione. E sul tavolo c'è la trasformazione della vecchia centrale di Cerano. Le pagine interne di Repubblica. Ecco, ritroviamo l'appello del rettore Brunzini. Per gli studenti non ci sono più spazi. I nostri allievi vanno visti non soltanto come utenti, dice Brunzini, ma anche come cittadini. La pandemia ha lasciato il segno. E poi torniamo sulla visita del ministro Nordio. Colmeremo i vuoti nella città barese, ha detto il guardasigilli, che ha incontrato giudici e magistrati. Il presidente della Corte d'Appello Cassano ha detto, a proposito della visita, vicinanza che ci consentirà di accelerare sul tema dell'edilizia giudiziaria. In chiusura della nostra rassegna stampa, torniamo sulle notizie nazionali. Con la prima pagina del Sole 24 Ore, borse e banche, prove di rimbalzo, il titolo scelto quest'oggi. Si parla quindi di mercati. Dopo il venerdì nero, i listini recuperano terreno e piazza affari vola al più 1%. Ebbene, si conclude qui la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito. A voi tutti, buona giornata. Grazie. Grazie.